Ma davvero? Allora perché non facciamo una gara? Io e te. Come? Ma io e te? E' un po' scherzo. Se vinci tenere maglie io riparo la strada. Se perdi tu rifai la strada a modo mio. No, che stai dicendo? Non vorrei sembrare maleducato. Ma forse tu fai da zero al tempo in quanto per tre anni virgola cinque. Allora direi che non hai motivo di preoccuparti. Sai una cosa vecchio mio? Hai avuto un'idea magnifica. Facciamo una gara. E ciao. Signori, la gara consiste in un giro solo. Arriverete al tempo. Viti, girarete.